Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il venuto qui al canale, siamo qui su Farme Simulator 2019, la mappa Lebaum, siamo in compagnia del nostro amico Simulator for Life che salutiamo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno ragazzi, buongiorno collega, grazie nuovamente per il bel invito. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti anche a voi. Allora continuiamo le lavorazioni sulla mappa e mi sono accorto che, a parte che non mi ricordavo più, dobbiamo concludere questa missione qua, a tentare di concludere questa missione qua che è a frumento. Esatto, non mi ricordavo più se abbiamo un problema, perché avevamo un problema, in teoria ci manca, beh qua quanto abbiamo? 48, quasi 50, 60, no ce la facciamo, ce la facciamo. Ma non mi ricordo, comunque c'era un problema, non mi ricordo qual'era. No, 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 va bene così, ce la facciamo perché ho visto che abbiamo qualcosa nel silo, avevamo 17.000 litri, per cui se vuoi puoi partire direttamente e andare a vendere, a vendersi, cop, vediamo un attimo, cop. Sì, penso che sia quello stesso dei semi di soia in teoria. Sì, vabbè, vado io, va là. Vai, vai, vai. Tu segui, vieni col carrellino, c'è un carrellino in farm. Sì. Riempi quello che c'è nel silo e ci vediamo lì. Ok, io stavo sistemando anche il carburante. Sì, esatto, il carburante, di fatti te l'ho lasciato, non sono andato proprio avanti off camera, per cui te l'ho lasciato lì, per cui finisci a questo punto. Lì dov'è, sì, sì, sì. Devo recuperare un po' di frumento, giusto? Tutto. Tutto, ok. Ok, io nel frattempo raggiungo il punto di scarico e, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, the million like, commentate e condividete. Aspetta piano perché qua c'è il lago, giù in descrizione, troppo, mamma mia. Trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi e in più giù in descrizione trovate il link per il canale simulator, iscrivetevi anche su, mi raccomando. Grazie capo, grazie, grazie. Io ho preso una stradina che pensavo mi portasse. Ma dove stai andando? E invece... Devi venire su strada, devi venire. Eh sì, invece sto facendo strade sterrate. Comunque costa il carburante su sta mappa. Ammazza, oh. Mi stai spogliando di ogni avere proprio con quel carburante. Di ogni avere, sì, 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 sì. Eh ma non è colpa mia il prezzo della benzina che è aumentato. Beh ma guarda, sicuramente. Quindi non è colpa mia. Uh, 3300 euro di carburante. Assolutamente. Oh 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 oh. Salve. Allora, il punto di scarico è sempre quello lì furbetto. E il punto dovrebbe essere questo comunque. Fermo lì, vediamo se mi paga. No, bene. Eccellente. Ok, 74%. Molto bene. Ok, con quello lì in teoria dovremmo concludere. Adesso questo lo rimando in farm. Scarico io eh. Sì, 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 vada, vada. Quando vede i soldi si fermi. Sì, 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 sì. Eh, magari si mancherà, forse manca qualcosina. Boh. È giusto, giusto, guarda. È giusto, perfetto, vara. Meglio di così. Giusto al centesimo direi. Ok, 106 mila euro e la accogliamo. Ottimo. Allora, questo sta tornando proprio giusto, giusto in farm e lo prendo io. E lo andiamo a scaricare. Devo scaricarla qua, vero? Sulla cisterna che ho qui. Sì. Sì, esatto. E però non... Come faccio? In teoria dovrebbe fartelo scaricare. Dovrebbe esserci AR o I. Non te lo fa fare? No. Ma forse perché mi prende il trattore? Può darsi. O magari non è adatta a questa? Può darsi, magari sei un altro tipo di cisterna, non saprei. Può darsi. Io ho fatto le prove sulla tua mappa apposta, guarda. Bene. Sono contento. Dov'è che posso... No, niente. Vabbè, comunque la lasciamo qui. No, non me la fa scaricare. Da lì e fai carburante da lì. Esatto. Faremo carburante da lì che vuoi che ti dica. Poi. Avevamo altri terreni. Vabbè, adesso ho preso un po' troppi terreni. Per cui io vado a restituirli. Questi qua in alto. Il 5, il 6, il 7 perché sono troppo... Troppo lontani comunque. No, no, no. Fermo. Che fai? Allora... Credo che per quanto riguarda la trebbia io ho finito. Giusto? Sì. In teoria sì. Se vuoi riportarla a casa. Certo. Che io intanto finisco qua di passare l'arieggiatore e poi vedo un attimo perché dobbiamo iniziare le semine. Qua siamo sul 16, adesso lo porto sul 17, anche se forse sul 17 c'era da portare calce viva. Sì. O abbiamo finito? O abbiamo finito? Eh, bella domanda. No, vieni con il fend che c'è da spargere calce viva. Sì. Mando solo la trebbia a casa. Allora, nel frattempo io inizio da questo, dal 18. Ah, ecco perché adesso si è attivato il cosplay, perché ha visto i campi. Perché li hanno aggiornati, no? Eh beh, certo, certo. Prima il cosplay non vedeva nulla. Non vedeva i campi, certo. Era cieco? Vabbè. Era cieco. Allora, mettiamo via un po' di attrezzature. Però una cosa, non ho più. Mi serve un trattore grossetto per, diciamo, con cavalleria abbondante. Per fare un po' di lavori. Perché uno ha l'arieggiatore, l'altro ha la calce viva e sono sempre preso un po' malino. Vediamo cosa c'è di buono. Vabbè, prendiamo un trattore che ha fatto un po' la storia del canale. Oh, addirittura. 192.000 euro. Mi prendo il case Puma CVX Series. Molto attrezzato in maniera particolare. Che mi servirà per seminare. Poi, che altro? Devo analizzare dei terreni. Ok, ho il 23, il 21 e il 22. Beh, ma per analizzare però mando il piccoletto. Uh, la trebbiola, poverina. Ci sta provando lei ad andare a casa. Non ce l'ha fatta, eh? No. Diciamo che qua... Eh, è messa male, eh. Vabbè, comunque la trebbia sono riuscito a sbloccarla. Allora, questo è il nuovo trattore che dobbiamo portare a casa e mettere subito a seminare. Devo anche ripararlo, però prima andiamo in farm. Eh, niente, vieni in farm e ricaricati che... Che inizia ad analizzare gli altri lì vicino. E vediamo un attimo anche cosa seminare. Aspetta che... Tiro via quel cosino lì perché sennò... Oh... Ma hanno messo un nuovo capanno qua e tu ci hai messo proprio il... Come hanno messo un nuovo capanno? E tu ci hai messo proprio il coso della calce in mezzo praticamente al capanno. Caspita. Ah, ma qua c'è un upgrade che è un po' strano però, eh. Perché? Perché non l'hai visto. No. Beh. Diciamo che... Io sono finito sotto la mappa. No, diciamo che non c'è mappa. Vabbè, comunque io intanto vado a... Ad analizzare i terreni. Eh... Ok, questo ha finito. E possiamo occuparci di questo, molto bene. Allora, se vuoi venire sul terreno 23... Che inizi con la calce viva. Intanto lo sto analizzando, eh. Tranquillo. Però devo capire che Trarini deve seminare il 35, ok. Allora, qua sul 37 cosa ho fatto? Trefle. Allora, facciamo... Trefle anche qui. Almeno abbiamo due terreni da tirar su. Eh, vediamo poi... Campo 23 hai detto, eh, vero? Eh, sì. C'è l'analizzatore. Adesso io arrivo a raccogliere la paglia. Vabbè, ma io la calce la posso spandare lo stesso? Sì, sì, sì. Tu fai lo stesso. Allora, io sto arrivando con calma, eh. Sto trattore qua proprio è inadatto. È inadeguato. A sto macchinario qua. Vabbè, a posto. L'ho acceso e non va più avanti. Dai che ti sorpasso. Eh sì. Mi sa che è un lavoraccio questo. Vabbè, eh, se dobbiamo farlo. Sì, beh, è un po' impossibile con sto trattore qua fare i lavori, eh. Eh, sì, è un po' piccolino. Anche perché i terreni sono... Non è che siano... Più che altro che essendo tutti collinari... Eh, non conviene avere trattori piccoli. Ok, dai, campo 23 l'ho terminato comunque. Posto. Adesso non so quello... Il trattorino che stava analizzando a che punto è. Ma dovrebbe aver finito. Su 23 l'ho terminato. Sì, l'ho portato anche già via in realtà. Eh, no, c'era da fare il 21 e 22. Ah, allora lo vado a riprendere. No, 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 beh, va bene. No, porta... Ascoltami, porta tutto in farm. Che facciamo altro perché sennò... Ok, ok, ok. Qua non andiamo più avanti. Ah, e se no, guarda, lasciami lì il trattore. Fermo, fermo. Dammi quel trattore lì. Sì, sì. Perché sennò io non finisco più qua. Meno male che ci sono le automatizzazioni con sto course play... Con sto autodrive course. Sì, 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 ma tra un mese... Tra un mese... Le saluterai. Tra un mese sarà veramente paurosa la cosa. Tra un mese ti dirai... Torniamo sul 19. Sì, è vero. E aspettiamo che esca qualcosa di decente. Buon. Allora... Qua l'erba com'è? Vediamo un attimo. Qua l'erba dovrebbe essere pronta. Sì. Qua il Johnny sta finendo. Mi resta solo l'asseminatrice. Vabbè, volevo mandare avanti il tempo. Invece a sto punto... Mi prendo un po' di animali. Allora, intanto... Apriti sesamo. Qua prendiamo un po' di galline. Prendiamo una cinquantina di galline intanto. Conferma. E poi... Volevo prendermi le mucche. Già che ci sono... Dov'è il trigger delle mucche? Mucche, mucche, mucche. Mucchine. Non c'è la matta. Eh, ma se cosa ho paura? Che le devi proprio acquistare e portarle. Devo acquistarle, no. Ma c'è il mercante. Sì, sì. Ah, no, vedi. Ok. Bellissimo. Sì. Mi manda lui... Ah, le mucche l'ha. Le mucche, solo che... Come faccio a sapere qual è? Ah, kunstall. Va bene. Kunstall inizio. Ma va che roba. Bellissima sta modalità qua. Ma pensa che roba. Bellissimo. Ne prendo 20. E mi mangio tutti i soldi. Vediamo se ci sono adesso. Qua non c'è la matta. Sì. Eccole qua. Sono miste ai cavalli. Beh, non è venuto male comunque. Bellissimo. Cavalli insieme alle mucche. Fantastico. Non è venuta male, eh, veramente. No, è venuta bene. È venuta davvero bene. Allora, in pratica dovremmo essere in grado di vedere le mucche. Perfetto. E gli dobbiamo portare un po' di cosine. E il problema è che queste poche cosine non ce le abbiamo noi per il momento. Vediamo un attimo se me la accetta così, oppure no. Io comunque ho messo intanto a lavorare il John Deere sul campo 23. Il punto è, dov'è che vorrà la paglia? Penso lì nella... Di fronte alla casa, secondo me. C'è una parte in cui vedo della paglia in terra. Secondo me è qua. Qui ho comunque lungo questo corridoio qua erboso. Sì, prendi un fend e attaccami il caro miscelatore che c'è lì nella mangiatoia. Io intanto provo a entrare qua. Anche se... No, non posso passare con questo. Facciamo alla vecchia maniera. Anzi, fermo lì che vengo lì che è carico, perché sennò se facciamo lì in mezzo è un problemone. Dovrebbe prenderla... Anche se è troppa. Quanto ti dà? 11.000, per cui perdiamo troppo, perdiamo. Allora, vediamo un attimo. Questo bisogna di spiegarlo. Eh, non so, non ho mai usato questo qua. No, ma è un caro miscelatore, ho paura che... Ma anche perché il trigger potrebbe essere effettivamente anche per di qua, su questa linea di qui. E non... Però... Eh, fermo lì. No, no, niente. Beh, a parte che ne serve uno serio di... Adesso devo anche scaricarlo, oltretutto. Eh, vediamo se... Qua c'è un altro ingresso, comunque. Qua nel mezzo si è provato a passare qui nel mezzo. Sì, nel mezzo sì. E allora niente. Allora, come... Cosa prendiamo per la paglia? Però mi serve un po' di prestito. Perché non mi bastano i soldini. Allora, animali. Manda qualcuno al negozio. Ok, che poi io mi sistemerò sta paglia qua off camera. Purtroppo è andata così. Perfetto. Anche perché queste sono troppo... È tutto troppo... Le balle sono grosse, sono troppo voluminose, diciamo. Hanno troppi litri per... Per essere gestite così tranquillamente. Beh, questo lo posso vendere. Perché tanto non mi serve. Questo per la razione mista lo vendo perché guarda... Vendi. Vediamo un attimo... Cosa c'è di bello. Vabbè, ci prendiamo questo. Per cui mando due... Due trattori in... Due ingegneri. Due ingegneri. Ecco, quando mi fa queste cose... Per fare questa strada ci vuole un ingegnere, guarda. Sì. Mamma mia. Ma qua Johnny come hai messo? E l'altro? Uh, l'altro ha finito. Perfetto. E l'altro ha finito e basta, basta. Per seminare per oggi possiamo fermarci qui. Eccellente. Allora, facciamo un po' i conti. Qua abbiamo tutto un po' sparso. Abbiamo fieno. Che possiamo dare tranquillamente. Devo fare un po' di insilato. Devo tirar via. Un po' di cose perché ho tutto in mezzo, veramente, eh. Comunque ragazzi, io prima di concludere e lasciarvi, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicione in su dei million like, commentate, condividete. Giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. Più in giù in descrizione trovate il link del canale di Simulator. iscrivetevi in questo canale, che è venuto anche oggi a dar manforte, perché sennò qua... Ma ecco, ma ecco. Andiamo sempre male. Vabbè, Robert me lo prendo io. Qual è il punto? Il punto è che abbiamo difficoltà a dar cibo, perché abbiamo tutte balloni grossi. Sì, sì. Mi servirà un silo per sciogliere, diciamo, le balle. Allora, io mi occupo del fieno, voilà. Metto qua un ballone della paglia, no? Tu mettiti dentro un ballone di paglia. Ok. 20.000, perfetto, di fieno. Intanto abbiamo paglia sparsa per tutta la farm, vedo, eh. No, non ci sta sotto, ma ti pensi? Che roba, è troppo alto. Sì. Vabbè, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Fieno. Riusciremo mai a farcela? Prego. Perfetto. E adesso auguri. Ah, grazie. Oh, c'è voluta tutta. I ragazzi sono 20 mucche e ce ne vogliono almeno 6. Guarda che, non è semplice se va avanti così. Boh. Dai un po' di fieno. Proprio io non lo capisco. E che, ma lo sai cosa? E che forse non è questo l'attrezzo giusto e ci vuole il Robert. Ma io l'ho sempre utilizzato questo qua, in qualsiasi trigger non mi ha mai dato problemi. Prova di fuori. No, no, aspetta, aspetta. No. Si è buggata la partita. Ma sta mappa ha tutto fuori che i trigger, secondo me. Trigger, sì, 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 davvero. Ha tutto fuori che i trigger. Vabbè, ragazzi, cosa volete fare? Poi io, camera, andrò a vedermi dov'è sta mazza dei trigger. Allora, dove sei te? Qua, qua dietro di te, dietro di te. Venga qui, venga qui. Allora, io la ringrazio per essere stato qui in nostra compagnia, ad avermi dato una mano sulla mappa dei baum. Ringrazio voi, ragazzi, per essere arrivati fino a questo punto. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e grazie e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.